Dieci immigrati in regolari siriani tra i 21 e i 47 anni sono stati fermati l'altro pomeriggio sull'accordo autostrada del 13 all'altezza di Padriciano. A notare il gruppo che camminava lungo la strada sono state le pattuglie della polizia di frontiera del settore triestino impegnati nei consueti controlli di retovalico al termine delle verifiche sulle loro provenienze. Per i clandestini, tutti uomini in buona condizione di salute, sono scattate le procedure amministrative. Secondo i primi accertamenti, i dieci siriani sarebbero entrati in Italia giorni della prima mattinata a bordo di un furgone dopo aver percorso la rotta balcanica. Dopo aver dormito per qualche ora in un bosco, avrebbero proseguito a piedi per il viaggio. I dieci clandestini avrebbero pagato agli organizzatori parecchie migliaia di euro.